Ormai da tempi noti una cosa è più che certa, l'igiene orale è fondamentale nelle vite di ognuno di noi e anche non solo per una questione di igiene per l'appunto, l'alito cattivo, l'alito pesante cosa potranno mai pensare gli altri di noi, ma è per quanto una questione per lo più legata alla salute perché dall'igiene orale, da una cattiva igiene orale possono scaturire tanti altri problemi e proprio come in tanti ambiti della vita quotidiana, anche in quello della salute, la tecnologia è entrato a gamba tesa in un settore come questo dell'igiene orale, Oclean probabilmente è uno tra i brand più diffusi con prodotti legati appunto alla cura dell'igiene orale, con spazzolini, idropulsori dentali, fili interdentali e moltissimo altro questo video offerto da Oclean e tutti quanti i prodotti di cui vi parlerò oggi sono in offerta per il Black Friday a dei prezzi decisamente interessanti ve ne parlo dopo la sigla con tantissime offerte, veramente, veramente da non lasciarvi scappare a partire da oggi 29 novembre fino al 30 novembre Oclean ha lanciato delle strepitose offerte in occasione del Black Friday che abbiamo riassunto per intero in questo video l'offerta per il Black Friday di Oclean è davvero molto variegata sulla pagina dedicata sul sito ufficiale di Oclean le offerte sono riepilogate e distinte in categorie separate la prima è la più interessante ma è quella dove dovrete essere più veloci dove in pratica sono messi a disposizione 15 spazzolini elettrici al giorno 3 modelli diversi, nel dettaglio si tratta dell'Oclean F1, lo Z1 e l'Oclean X che vengono venduti a prezzi inferiore a un terzo del listino tradizionale in offerta soltanto per pochissime unità al giorno tralasciato questa che è l'offerta sensazionale ma su cui bisogna essere più veloci ce ne sono altre dove la velocità non è un requisito fondamentale i prodotti in promozione sono tre, il primo è l'Oclean One, uno dei prodotti più venduti sullo store di Oclean uno spazzolino elettrico dotato di motore con frequenza massima fino a 42.000 rotazioni per minuto setole morbide prodotte da DuPont e tre modalità di pulizia con quattro diversi livelli di intensità la batteria di cui è dotato assicura 60 giorni di autonomia con una singola ricarica ed in più possiede uno speaker in grado di inviare dei remander vocali che appunto ci ricordano di lavarci i denti l'offerta per il Black Friday è davvero sensazionale, 30 euro di prodotti in omaggio tra cui delle setole di ricambio, un supporto per il fissaggio, un filo interdentale e una borsa da viaggio per un prezzo scontato inferiore ai 45 euro rispetto ai circa 72 di listino tradizionale il secondo prodotto in offerta di Oclean è lo Z1 un modello più economico del precedente ma ciò nonostante rientra nella categoria Smart lo spazzolino possiede un motore con velocità di rotazione massima fino a 40.000 rotazioni per minuto ed una batteria che si cura fino a 30 giorni di autonomia anche lui come l'Oclean One possiede una base di ricarica magnetica e non si collega direttamente via cavo all'alimentatore anche lui si può collegare allo smartphone tramite app proprietario di Oclean si possono monitorare i lavaggi, si possono monitorare la tipologia di lavaggio che abbiamo fatto quanto sono durate, tanti tantissimi dettagli che anche nelle recensioni di Dario qui sul nostro canale avrete sicuramente avuto modo di vedere l'offerta per il Black Friday su questo modello consiste anche qui in 30 euro di prodotti in regalo un supporto per il fissaggio, la base di ricarica, 6 testine di ricambio, un filo interdentale ed un prezzo scontato inferiore ai 32 euro contro i circa 47 o 48 del prezzo tradizionale di listino che è possibile insomma trovare non nel Black Friday l'altro modello in offerta è l'Oclean X Pro che è il più figo almeno per quanto mi riguarda a livello tecnico possiede un motore sempre da 40.000 rotazioni per minuto setole prodotte dall'azienda DuPont e un app su smartphone sulla quale controllare tutti i dati della vostra spazzolata la chicca più interessante di questo prodotto consiste in un display da 0.96 pollici touchscreen di tipo TFT sul quale potrete visualizzare la durata del vostro lavaggio e anche una sorta di selettore all'interno della quale vi è specificato in quale zona della bocca avrete lavato meglio e in quale invece un po' meno l'offerta per il Black Friday consiste anche qui in 30 euro di prodotti in regalo due supporti per il fissaggio, due testine di ricambio, un filo interdentale ed un prezzo scontato di 53 euro contro i 79 di listino e questo secondo me è il prodotto più interessante del catalogo di Oclean un altro accessorio che sul lavandino dei maniaci dell'igiene orale non può mai mancare l'idropulsore dentale ho anche conosciuto con il nome di irrigatore dentale e abbiamo provati alcuni sul nostro portale di cui uno personalmente ne ho provato anch'io che però invece rispetto al modello in offerta è un tantino più avanzato questo in offerta è l'Oclean V1 che è dotato di 4 accessori per la pulizia di diverse aree della bocca oltre che di una tannica da 30 ml riempibile con acqua e colluttorio la batteria di cui il V1 è dotata consente di avere un'autonomia di circa 30 giorni ed effettivamente più di 3-4 ore di lavaggio questo in realtà è un accessorio un po' più costoso rispetto agli spazioni elettrici di cui vi ho parlato si parla di circa 62 euro per l'offerta del Black Friday contro gli 88 euro di circa del listino tradizionale sono insomma un consistente sconto soprattutto se considerate anche i circa 20 euro di omaggi tra travel bag e molto altro l'altra possibilità di acquisto di questo Oclean V1 è accoppiato all'Oclean X Pro lo spazzolino di cui vi ho parlato poco fa il prezzo scontato è di 115 euro e 20 centesimi anziché i 170 euro chiesti dal listino e in più ci sono anche qui una serie di accessori in omaggio tra cui borse da viaggio, filo interdentale, testine di ricambio e davvero tantissimo altro ragazzi una cosa invece è certa per tutti gli ordini effettuati sul sito a prescindere da tutte queste offerte che vi ho specificato e di cui vi ricordo troverete il link in descrizione ogni ordine effettuato sul sito avrà diritto a darvi in regalo un filo interdentale e per i primi 100 ordini della giornata anche due testine di ricambio per gli spazzolini ovviamente qualora ne abbiate acquistato uno ma il Black Friday di Oclean non finisce qui ragazzi perché su tutti quanti gli accessori Oclean ha pensato anche a chi è già in possesso di uno spazzolino o chi è già in possesso di un idropulsore e quindi ha necessità soltanto degli accessori ragion per cui su tutti gli ordini superiori ad una certa cifra c'è uno sconto del 20 o del 30% a seconda appunto dell'importo speso in più per incentivare gli acquisti durante questo periodo dell'anno Oclean ha inserito anche dei regali extra per chi effettuerà ordini un po' più corposi magari se state unendo gli ordini della fidanzata, di un amico o dei familiari insomma questo è il momento giusto per portarvi a casa un po' di regali in più Io come al solito vi lascio i link in descrizione per poter approfittare di tutte queste offerte di cui vi ho parlato e come al solito iscrivervi al nostro canale di Telegram qui in alto perché ci sono tantissime offerte come questa ma soprattutto c'è il nostro gruppo di supporto sul quale potrete fare delle domande e delle curiosità al nostro Mr. Deals che vi risponderà prontamente con dei consigli saggi ed accurati Io anche per oggi vi saluto, alla prossima da Nicola, ciao!